Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Lucia e oggi vorrei parlarvi di 5 libri utili a capire e sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico. Perché, per chi non lo sapesse, ieri è stata la giornata mondiale della Terra. Istituita ufficialmente nel 1990, a partire dall'idea del senatore americano Gaylord Nelson, ha come scopo quello di fornire alle persone strumenti e informazioni utili a poter effettuare un vero e proprio cambiamento delle proprie abitudini. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se non l'avete ancora fatto, per rimanere sempre aggiornati sui contenuti del canale. E vi ricordo che giù nell'info box vi lascio i link affiliati Amazon se vorrete acquistare uno o più libri. In tal caso, io riceverò una piccola percentuale sul vostro acquisto, mentre voi non spenderete nulla di più. Bene, adesso possiamo iniziare. Il primo libro di cui vorrei suggerirvi la lettura è No Planet B. Un libro indispensabile che ci permette di conoscere concretamente lo stato di salute della nostra Terra, grazie ad una serie di dati e di grafici. Infatti, Planet B è una sorta di guida tecnica in cui, partendo dall'individuo, in cui a partire dall'individuo si va a considerare la necessità di un impegno globale che vada a interessare ogni singolo aspetto della vita contemporanea, dalle risorse alimentari allo sfruttamento del sole e del mare, all'economia fino ad arrivare ovviamente alle risorse energetiche. Il pianeta ha infatti bisogno di tutto il nostro impegno perché non ha più quella robustezza che permette di sopportare tutte le nostre attività e se non invertiamo più presto la rotta, ci troveremo a dover affrontare una vita sulla Terra che sarà sempre peggiore. Il secondo libro che vi consiglio, invece, è Il mondo in fiamme e in questo caso si tratta di un libro, anche se un po' datato, perché è uscito per la prima volta nel 2019, e ha ancora degli aspetti che lo rendono attuale. Infatti, l'autrice, attraverso una serie di articoli, ci spiega come i concetti di discriminazione raziale, di classe e di genere siano strettamente collegati ai cambiamenti climatici. Infatti, secondo l'autrice statunitense, il modello economico su cui si è basata la società occidentale e che di fatto ha assoggettato tutto il mondo, si basa su uno sfruttamento indiscriminato delle risorse, compreso la razzializzazione delle persone. E quindi, secondo la Klein, se non si ripensa a questo modello di sviluppo, ogni tentativo di ridurre i gas Serra sarà destinato al fallimento. Però, nonostante queste prospettive poco rosee, sul finire del libro, diciamo che la Klein dà comunque un segno di speranza, perché fa riferimento a quel progetto di Alexandra Ocasio-Cortez chiamato Green New Deal, in base al quale è possibile attuare un nuovo modello di sviluppo che sia più sostenibile. Il terzo libro che vi propongo è The Climate Book, in cui, con una serie di articoli, vengono analizzati tutti quei pericolosi fenomeni che ci stanno sempre di più avvicinando al punto di non ritorno. Per chi non lo sapesse, il punto di non ritorno è una situazione che generalmente si verifica nel corso di secoli o di millenni, per cui una volta arrivati al punto di rottura non è più possibile tornare indietro. E tra questi fenomeni, quelli che vengono analizzati sono lo scioglimento dei ghiacciai, soprattutto quelli artici e della Groenlandia, il pericoloso assottigliamento del permafrost e la progressiva scomparsa della foresta pluviale amazzonica. Il libro poi si sofferma sul fatto che questi punti di non ritorno rischiano di condannare le generazioni future ad una vita disastrosa e proprio per questo motivo, oltre a dover ripensare a un modello di sviluppo occidentale, bisogna anche dare il via ad una vera e propria etica ecologica. Altro libro importante per sviluppare una coscienza ecologista è Possiamo salvare il mondo prima di Cina. Questo saggio pamphlet inizia con il parlarci dei cambiamenti climatici soffermandosi in modo particolare sull'inguinamento e sull'escaldamento globale, per poi arrivare al vero fulcro del libro, che è appunto l'impatto che hanno sul pianeta la produzione di piocarburanti e gli allevamenti intensivi. In particolare l'autore si sofferma su due paradossi che vanno ad alimentare un circolo vizioso. Infatti, da un lato abbiamo grandi risorse nella terra che potrebbero sfamare molte persone, ma che vengono utilizzate per produrre mancimi per animali che poi vanno a nutrire persone già ipernutrite della società occidentale. L'altro paradosso è quello per cui ogni anno vengono prodotti più di 100 milioni di tonnellate di cereali di mais destinate alla produzione di biocarburanti. E questo viene ritenuto un vero e proprio crimine contro l'umanità se pensiamo che ci sono almeno un milione di persone sulla terra che soffre la fame. Però il libro non propone né una primazione dei prodotti animali né tanto meno l'adozione di regimi alimentari drastici. Semplicemente vuole far capire alle persone occidentali che è possibile salvare il pianeta adottando uno stile di vita e di alimentazione più sano e sostenibile. E fa l'esempio del fatto che si può salvare il pianeta se basta applicare un cambiamento molto semplice per salvare il pianeta. Vale a dire, prima di cena, di evitare di mangiare prodotti di derivazione animale. Ultimo, ma non per importanza, libro che vi suggerisco è Racconti dal pianeta Terra. Una raccolta di 20 racconti di scrittori e scrittrici che in modo molto semplice ci aiutano a capire e a riformulare il nostro atteggiamento nei confronti dei cambiamenti climatici, del nostro rapporto con le altre specie e sul nostro impatto ambientale. Insomma, 20 racconti che ci spingono a fare una profonda riflessione su quanto siamo vicini al punto di non ritorno. Bene, questi sono i miei suggerimenti per quanto riguarda la tematica ecologica. Un tema che dovrebbe stare a cuore a tutti noi se vogliamo salvare la Terra dalla distruzione. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e se avete altri libri da suggerirmi. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!